Ognuno di noi ha un legame forte con una po' più chiese, la nostra parrocchia, quella in cui siamo cresciuti, perché no anche la chiesa dove ci siamo sposati o dove hanno ricevuto la comunione i nostri figli, o ancora Gabriella, quella chiesetta in montagna dove spesso ci richiamo per pensare e per pregare. E allora noi indagheremo questo rapporto raccontandoci quanti simboli sono racchiusi in ogni chiesa. Sì Massimiliano, cercheremo di capire quali spazi all'interno delle nostre chiese e delle nostre parrocchie rivestono un importante valore simbolico, insomma ci troveremo a riattraversare con occhi diversi quei luoghi sacri che crediamo di conoscere. Allora ben arrivati i nostri ospiti, padre Ruberval Monteiro da Silva, monaco Benedettino, sacerdote, professore di arte e liturgia al Pontificio Ateneo e Collegio Sant'Anselmo di Roma, arriva dal Brasile, ha dipinto lì e qui in Italia moltissime chiese, ben arrivato, Alessandra Fadda, giovane architetto, presidente dell'associazione Arte in Bottega di Volterra, da poco ha progettato e dunque realizzato nella cattedrale antica della sua città un nuovo altare, ci dovrà raccontare come si fa a realizzare un'opera in fondo contemporanea in una cattedrale che ha quasi 900 anni. Ben arrivata, e ben arrivata anche Angela Melchionda, insegnante di religione nelle scuole medie, catechista nella parrocchia romana di San Giuseppe al Trionfale. Allora padre Ruberval, io le chiedo di iniziare elencando le tappe principali che visitando una chiesa occorre fare, quali sono gli elementi principali? Poi li approfondiamo, facciamo un'altra. Benissimo, il primo è la porta che vediamo da lontano e dopo entriamo, acqua, santiera e dopo tutto il percorso della nave, ambone, altare. Bene, secco. E tra poco poi ci soffermiamo, passo per passo Angela, per i ragazzi del catechismo e anche i ragazzi che segue a scuola, qual è lo spazio più importante, quello che amano di più all'interno della chiesa? È il tabernacolo, sicuramente, perché comunque era chiuso il mistero più importante del tabernacolo, cioè il fatto di essere chiuso a chiave, di avere la luce davanti sempre accesa, indica che c'è un valore prezioso e quindi è focalizzato lì l'incontro. Questo per i ragazzi, no? Per i ragazzi. I ragazzi, sì, sì. Quando abbiamo preparato questa puntata mi è apparso improvviso il testo del liceo di storia dell'arte, l'Argan, no? E allora io le chiedo, provando un po' a ripassare, quali devono essere le caratteristiche della chiesa? Croce latina, croce greca oppure pianta circolare, sì, circolare, di cui fa parte anche la pianta croce greca. Quindi la pianta centrale si sviluppa a partire da un punto centrale e all'interno di questa può svilupparsi una forma geometrica semplice, un quadrato, appunto una croce. Poi passiamo alla pianta croce greca, dove i bracci sono di uguale lunghezza e si intersecano in un punto centrale e poi troviamo la pianta croce latina, dove la navata centrale prevale in lunghezza rispetto al transetto che interseca appunto la navata. Insomma, Gabriella, fin qua, fin qua. Già abbiamo degli elementi importanti. Chissà i nostri spettatori. Ma secondo me lo sapeva Simone questo. Secondo me sì, anche lui ha studiato sull'Argan. Poi tu sull'Argan. Eh sì. Allora oggi la domanda è molto semplice, l'altare, l'ambone, il tabernacolo, qual è il luogo della chiesa a cui siete maggiormente legati. Insomma, fateci avere le vostre riflessioni e perché no, segnalateci anche le vostre domande. Vi lascio subito i nostri contatti. Partiamo dalla mail, siamo noi, chiocciola tv2000.it oppure il nostro numero whatsapp 348 3070 345 oppure chiamateci, lasciate un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 o semplicemente seguiteci sui nostri social. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora vi attendiamo e nel frattempo entriamo in una delle parrocchie italiane. Veramente avevamo l'imbrazzo della scelta ma lì si trova la nostra Marta Manzo con il parroco. Ora il parroco... Non sembra di ricordarlo. Incidentalmente, bene sì, Massimiliano, è uno dei più cari amici di... siamo noi. Di solito è qui, presente. Oggi è lì perché l'argomento ce lo imponeva. Bene arrivato Don Donato Agostinelli. Bene arrivato Don Donato. Siamo qui all'interno della sua parrocchia che è San Leonardo Abate a Cerreto Guidi in provincia di Firenze. Di solito è lui a venire da noi, oggi siamo venuti noi da lui. E a lui voglio chiedere subito qual è il suo luogo preferito all'interno di questa chiesa. Tanto grazie di essere venuto qui da noi in questa bellissima chiesa. Il luogo preferito è proprio qui, la navata centrale, perché mi sento immerso nella realtà dei miei fedeli che sono arrivati, hanno fatto un percorso in salita. Ci si trova qui insieme proprio per formare una cosa sola, per essere una sola comunità. Anche se si viene da momenti diversi, da situazioni diverse. È il punto centrale dove la comunità si forma e diventa una cosa sola. Lei prima mi ha detto varcare la porta per arrivare in un punto. Certo, è una bella sorpresa quando si entra in questa chiesa. È come entrare in un ambito dove si respira la bellezza, che dà gioia, che dà serenità. E si vede dal volto delle persone che si ritornano qui perché sono sorridente. Guardate anche la nostra amica com'è sorridente. È un punto, questo centrale, la chiesa è stata più volte restaurata? Tantissimo. Parte da una pieve romanica, ha subito un sacco di rimaneggiamenti, fino ad arrivare all'attuale con una navata centrale, due navatine laterali, la chiesa super rialzata. Ma bellissima che esprime proprio il vissuto di questi secoli, che vuole, nei vari tempi, riconformarle in base a quello che è l'uso che la comunità ne fa. Vi restituisco per adesso la linea, ma vi aspetto qui perché parleremo di una perla all'interno di questa chiesa. Intanto a voi in studio. Grazie, grazie. Torniamo veramente volentieri. Vi avevamo promesso un percorso a tappe, dunque, padre Ruberval, partiamo dal momento in cui dal fuo dell'esterno si entra nella chiesa, si attraversa l'ingresso e dunque la porta. Sì. Diciamo che da lontano, quando uno si avvicina alla chiesa, la porta attira l'attenzione, perché la porta della chiesa, soprattutto la centrale, dovrebbe essere molto imponente proprio per rivelare che lì indietro c'è qualcosa di molto interessante. e qui la porta potrebbe essere il simbolo proprio del mistero, la soglia. Non c'è una possibilità di trovare il divino senza varcare delle soglie. E quindi entrare in una chiesa, la prima soglia è la porta, che già è un anticipo di quello che c'è dentro. Quindi da artista lei ci sta facendo capire che la porta deve continuare a meritare l'attenzione che ha avuto attraverso i secoli. Molto. Soprattutto la porta non dovrebbe essere di vetro, per esempio, perché uno deve immaginare quello che c'è indietro. Non deve vederlo subito. Perché quello che noi vediamo subito non ha valore. Il mistero. Non ha valore. E allora quando si parla di porte, non possiamo non ricordare questa immagine di Papa Francesco che nel 2015, nel corso della sua visita pastorale nella Repubblica Centroafricana, apre la porta santa di Bangui. E non possiamo fare, Melchionda, non possiamo non fare una riflessione sulle porte degli anni giubilari, che assumono poi un valore eccezionale. La porta indica in quel caso proprio l'inizio di voler entrare in un cambiamento di vita. E' proprio questo l'ingresso ad una conversione, ad una conversione del cuore. Quindi entrare nella porta significa io voglio cambiare e quindi iniziare tutto un percorso di riflessione sulla propria vita e poi lasciandosi accompagnare attraverso anche i sacramenti fare questo inizio che porta poi ad una vita migliore. La porta dunque l'abbiamo attraversata, abbiamo capito che la preferiamo non di vetro perché il mistero ci deve essere. E a proposito di sacramento, Padre Ruberval, noi ci troviamo una volta solcato all'ingresso di fronte alla fonte battesimale e facciamo il segno della croce. Lo facciamo molto spesso quando ce lo ricordiamo meccanicamente. Sì, di fatti la fontana battesimale o la fonte battesimale ci ricorda il nostro battesimo perché lì si fanno dei battesimi. Ma quando noi entriamo noi già battezzati, quello è un ricordo. E noi pensiamo perché devo ricordarmi di qualcosa? Perché quello mi dà l'identità. Di solito noi abbiamo, i padri dicevano che questo segno sulla nostra fronte è marcato a fuoco e che gli angeli riescono a individuare anche i demoni, ma noi dimentichiamo quello. E per quello, quando un cristiano dimentica quello che lui è, diventa preda facile di qualsiasi cosa. E quindi questo ricordarsi è meraviglioso, questa possibilità. E per quello alle volte manca un po' di catechesi proprio per aiutare a ricordare questo fatto. Noi la catechista ce l'abbiamo, no? Certo. Allora glielo chiediamo. Il battesimo è l'ingresso ufficiale nella comunità della Chiesa. Come si spiega ai più piccoli che dopo il battesimo poi bisogna ricordare, fare quel ricordo di cui parlava padre Ruberval? Come glielo si spiega? Sì, ma il gesto di bagnare la mano nell'acqua santa è proprio importante perché noi entriamo nel luogo sacro che è la Chiesa in virtù del nostro battesimo. Quindi, come diceva il padre, è la nostra identità. Quindi noi siamo cristiani e quindi entriamo in quel luogo perché ci sentiamo appartenenti a quella comunità cristiana e quindi siamo attraverso il battesimo che facciamo parte della comunità cristiana e quindi è lì che è l'inizio della nostra vita in Cristo, attraverso il battesimo. Ecco, il fonte battesimale della Chiesa di San Leonardo a Cerreto Guidi dove si trova con Marta Manzo, il nostro don donato, è una vera e propria opera d'arte. Don Donato, ce lo racconta? È bellissima perché è un'opera unica di Giovanni della Robbia del 1511 dove rappresenta tutta la vita di Giovanni Battista con questa prima formella bellissima del Giovanni che è nel deserto con tutti gli animali, con la scure che è sull'albero a indicare questo percorso che nasce da Giovanni fino ad arrivare al trasferimento a Gesù di quello che è stata l'opera di Giovanni che poi Gesù porterà a completamento. Questo è il fonte battesimale di San Leonardo Abate qui a Cerreto Guidi e oltre a essere un'opera prestigiosa, insomma unica nel suo genere che cosa rappresenta per la comunità? Sicuramente rappresenta quella che è la nascita nascita e la rinascita ogni domenica fonderemo una continua rinascita che abbiamo nella nostra vita e quando io entro qui, come dicevo prima, e il mio sguardo vola al fonte battesimale rientro e come ritorno nel ventre della madre per rinascere nuovamente. Se avete domande dallo studio le rivolgiamo direttamente a Don Donato. Per il momento no, però insomma ci sono tante cose di quella chiesa che vogliamo conoscere quindi torniamo da voi. Fadda, schiattata. Sì, va benissimo, vi aspettiamo per un prossimo collegamento. Grazie. Fadda, stiamo conoscendo tante realtà e stiamo guardando davvero alle chiese con occhi un po' diversi. Gli stili architettonici sono tanto diversi e sono stati tanto diversi attraverso i secoli esprimendo il rapporto con la fede, con la liturgia pensiamo alla differenza tra una chiesa barocca a una chiesa di impianto romanico non possiamo naturalmente fare un compendio di storia dell'arte però sinteticamente provo a spiegarci come è cambiata adattandosi al passare del tempo la chiesa l'edificio sacro per eccellenza. Allora partendo, che so, dalla chiesa romanica possiamo dire che l'involucro, l'edificio era molto semplice era un involucro in muratura mentre passando già al gotico quindi siamo nel 1200-1300 l'involucro della struttura si comincia a svuotare quindi viene sostituito il muro da finestre vetrate e policrome a mano a mano poi col rinascimento Quindi la luce ha un'importanza enorme fondamentale, sì e via via poi insomma col passare dei secoli vediamo che la chiesa si arricchisce di elementi decorativi quindi si arriva poi agli stucchi a materiali preziosi con i quali insomma si adornano le nostre chiese E poi padre Rubber va alle navate possono avere le più svariate forme più larghe, più strette, più lunghe, più piccole però di certo è il percorso che noi facciamo dall'ingresso verso l'altare ci spieghi un po' il significato? Il percorso sarebbe quello della liturgia della parola la navata è il luogo del lambone è il luogo della liturgia della parola per quello nelle navate ci sono nelle basiliche le colonne che scandiscono, sono diverse soglie soglie, soglie, che si passano di soglia in soglia fino diciamo a arrivare il punto più sacro che sarebbe l'altare e il tabernacolo e quindi nella navata di solito erano rappresentate le scene della storia della salvezza Antico Testamento, Nuovo Testamento o la vita dei Santi e quindi era la parola di Dio dipinta scolpita e quindi si entra sarebbe una immersione nella parola di Dio dipinta in figure, in immagine oggi le nostre chiese sono un po' più bianche sono un po' più bianche attraverseremo Massimiliano dunque con più consapevolezza da oggi in poi le navate delle chiese, delle basiliche delle cattedrali ma una domanda, ma cara Marta ce l'abbiamo per il nostro Don Donato che è una domanda però di carattere personale Don Donato, da sacerdote come si attraversa la navata ogni giorno? la navata poi della sua chiesa della parrocchia dove è stato tanti anni si, della mia chiesa intanto come dicevo prima era con questo spirito di una pesantezza si sente il carico che si porta di una comunità di una situazione di sofferenza ma si sta viaggiando verso l'altare verso il luogo della gioia il luogo dell'offerta il luogo del dono che ci aiuta a risollevarci è un posto quindi è proprio un cammino quello che si fa? è un cammino è un cammino veramente che indica il nostro camminare è la nostra vita che è in cammino il nostro camminare incontra una persona che è lì sull'altare che ci aspetta e ci aspetta per aiutarci a risolvere qualche nostro problema? no il problema più importante della nostra esistenza noi con Don Donato stavamo appunto parlando prima anche dell'altare ora non so se volete possiamo parlarne magari nel prossimo collegamento perché volevamo spiegarvi un pochino dell'altare arriviamoci piano piano perché ce la vogliamo gustare tutta questa puntata padre Rubber vi aspettiamo allora qui proprio al centro della navata noi vi aspettiamo e tu non ti muovere Marta che sei sicura arriveremo allora sull'altare una volta terminato il percorso questo cammino di cui abbiamo parlato arriviamo all'altare io mi fermo qui però perché mi affido a lei sì arriviamo praticamente all'ultima soglia che è la soglia dell'antica tavolo della comunione è la soglia oppure dei gradini che l'ultima soglia non possiamo attraversarla noi diciamo io sono sacerdoti posso ma il semplice laico non può andare dall'altare a celebrare o a prendere la comunione di lì e quindi questo è il mistero della liturgia cristiana l'ultima soglia è Dio stesso che viene incontro a noi e quindi dal cielo è un'immagine fantastica tutta l'area del santuario dell'altare è considerata il cielo mentre la navata è la terra e il punto di incontro tra il cielo e la terra è un posto che c'era prima nei pavimenti che si chiamava Onfalos che vuole dire un bellico che era il posto dove i cristiani ricevevano i sacramenti è il posto dove noi riceviamo la comunione e quindi è il punto di incontro tra il cielo e la terra non possiamo andare in cielo ma il cielo viene a noi Quante cose stiamo scoprendo con il nostro padre Ruberval Architetto Fadda a lei è stato commissionato un progetto importante che poi è stato realizzato che è quello dell'altare della cattedrale di Volterra che è stato tra l'altro questo altare consacrato a settembre allora un altare nuovo in una chiesa lo dicevamo all'inizio che è sorta nel 1120 ma che emozione è stata sentirsi rivolgere mi permetta lei così giovane la richiesta di di creato di progettare è stata un'emozione fortissima e forse all'inizio anche un po' sottovalutata da me mentre poi ho capito piano piano il l'incarico che mi era stato affidato secondo lei perché il parroco perché è stato il primo ad annunciarglielo ha voluto scegliere un giovane architetto per questo e insomma come ha reagito a un senso di responsabilità che un po' fa tremare i polsi tutta la città che attende di vedere il risultato all'inizio io ho detto un sì un pochettino timoroso preoccupato e poi piano piano ho realizzato che cosa mi era stato affidato è un altare che parla volterrano quindi dal progettista alle maestranze locali al materiale con cui è stato realizzato è tutto che è all'abastro poi ne parleremo nei dettagli lo descriveremo della città di Volterra tra poco ci racconterà come è andata però prima andiamo da Simone che lo vedo bello carico ci scrivono in tanti c'è anche una domanda che magari può esserci da spunto per noi per me Gabriella non credo non credo allora cominciamo da Anna Maria che dice adoro le porte delle chiese specialmente quella del Duomo di Milano le porte sono ricche di ornamenti e spesso raccontano delle vere e proprie storie Nunzia quando guardo il tabernacolo il mio cuore si riscalda è la casa di Dio il luogo che custodisce il simbolo della nostra fede arriviamo alla domanda che appunto è una domanda di Lucia che dice premetto sono assolutamente d'accordo con i vostri ospiti studio ma non vi sembra che le chiese moderne abbiano un senso estetico decisamente discutibile? Facciamo così vogliamo rispondere subito a questa domanda? Rispondiamo subito l'architetto padre Ubervall l'architetto come è possibile? è difficile per quanto mi riguarda è stato difficile anche intervenire in una chiesa classica con un intervento che comunque vuole apportare un qualcosa di contemporaneo e quindi bisogna cercare sempre di trovare un compromesso dove è finita la bellezza ci dice la nostra telespettatrice sì è un tema delicato perché siamo in dialogo con l'arte contemporanea e molte volte noi confondiamo l'arte contemporanea con tutto quello che rompe gli schemi è uno dei principi dell'arte contemporanea è quello di rompere invece l'arte contemporanea per la chiesa deve rompere ma non rompere tanto possiamo rompere con una forma come quella che si vede che è una forma contemporanea però questa è nostra signora di Coromoto questa è la cripita di nostra signora di Coromoto che è un'autentica opera d'arte contemporanea sì e allo stesso tempo tradizionale opera sua sottolineare complimenti si può essere contemporanea rimanendo tradizionale allora facciamo così tra poco parleremo della sua esperienza lì a Volterra Don Donato ci spiegherà l'altare della sua chiesa e la sua prima messa parleremo anche di chiese brutte perché ci sono anche chiese brutte tante tra poco dopo la pubblicità ci aspettiamo torniamo allora ad attraversare le nostre chiese le nostre parrocchie le cattedrali le basiliche con uno sguardo nuovo perché cerchiamo di capire il senso il valore dei singoli spazi e ci eravamo lasciati con la promessa di capire a Cerreto Guidi nella chiesa di San Leonardo che cosa voleva raccontarci il nostro Don Donato Gostinelli dell'altare Don Donato Marta Manzo eccoci di nuovo Gabriella ciao l'altare alle nostre spalle non so se riuscite a vederlo bene ce ne parla un pochino Don Donato l'altare da un punto di vista artistico io non sono molto quotato per farla però è ciò che rappresenta chi è rappresentata rappresenta per la comunità è ciò che ci unisce in una stessa mensa cioè mangiare lo stesso pane ci fa diventare una stessa famiglia come una famiglia che si ritrova insieme alla stessa tavola per poi capire che dopo questo pane non possiamo dimenticarci degli altri non possiamo abbandonare un fratello che essere indifferente non pensare ai loro bisogni ma sentirci veramente una famiglia ma non soltanto una famiglia in questa comunità ma col mondo intero quindi questo lo sapete benissimo con quanto con lo shalom faccio perché possiamo riconoscere che siamo una famiglia globale un'unica famiglia mondiale le sto per fare una domanda difficile lei da 24 anni si trova in questa parrocchia se la ricorda la prima messa che è ufficiato qui? Marta 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 come dice Gesù nel Vangelo mi ricordo benissimo la prima messa del 17 dicembre 1995 con il mio predecessore quando sono entrato qui in questa comunità con un'ala di folla di chi mi accompagnava e chi mi accoglieva quelli che mi accompagnavano piangevano e quelli che mi accoglievano erano contentissimi e purtroppo mi ricordo anche l'ultima messa che ho detto in questa parrocchia domenica scorsa dove dopo 24 anni il vescovo mi trasferisce in un'altra parrocchia e allora ho visto che è stata una manifestazione di affetto unica che torna a quello che dice Gesù nel Vangelo avrete il centro su questa terra poi anche le persecuzioni ma bellissimo si sono dati da fare l'amministrazione comunale con il sindaco mi ha nominato cittadino onorario di Cireto Guidi la proloco le contrade la misericordia il consiglio pastorale tutti in lac tutta una festa bellissima rimarrà comunque un punto di riferimento vi restituisco la linea da Cireto grazie e siamo vicini a lui immagino il dolore di uscire dopo 24 anni la sua amata chiesa però farà benissimo anche nella nuova farà benissimo ci parlare di una comunità emozionata e felice ma come si progetta un altare? bella domanda non capita tutti i giorni credo di progettare un altare per cui è stata un'impresa io mi sono aiutata con disegni modellini schizzi per concretizzare quella che via via è diventata insomma l'idea che poi si è concretizzata ma se mi hai detto come faccio adesso per un istante se hai detto come faccio eh sì però sono stata aiutata nella realizzazione da dei bravissimi artigiani e artisti e quindi insomma il risultato penso si può vedere perché lei poi ha rispettato lo accennava prima tutte le tradizioni della sua terra dal materiale usato alle maestranze materiale per volere della committenza e maestranze sono tutte volterrane quindi quindi l'alabastro è la pietra utilizzata per creare questo gioco di intarsi e di alto rilievi che rivestono questa struttura in acciaio cortenne non vorrei dire una corbelleria ma l'alabastro non è abbastanza morbido no? quindi lei ha chiesto ai suoi artigiani qualcosa di anche di difficile da realizzare cioè di scolpire quei motivi poi ci dice anche quali sono i motivi utilizzando questo materiale? ci sono stati infatti dei momenti in cui l'ho messo un po' alla prova perché le forme che avevo scelto in parte si legavano a formelle geometriche di natura romanica che ho ripreso dal portale della cattedrale proprio per legarmi alla cattedrale di Volterra e queste forme geometriche non permettono sconti quindi l'altare doveva essere al millimetro raffigurando quali santi ci dica? allora sono tutti santi cari alla diocesi e alla città di Volterra quindi abbiamo ben 12 santi raffigurati nelle formelle sul fronte abbiamo San Giusto e San Clemente che sono i patroni della città abbiamo San Lino San Leone Magno Sant'Attina e Grecignana il Beato Giacomo insomma sono diversi e pensate che San Lino è il secondo papa dopo Pietro era un papa volterrano pensa e questo non lo sapevamo è una scoperta no immaginavo insomma deve essere stato un bel lavoro tosto diciamo però ci ha fatto venire la voglia di andare lì a Volterra che è peraltro una città bellissima bellissima molto bella vi invito perché insomma la nostra realtà anche artigiana è molto viva e abbiamo tante cose belle da farvi vedere il lavoro di padre Rubervall l'abbiamo prima accennato che cosa ha detto io quando la guardo è come la prima volta quasi non l'avesse fatta lei sì questa è nostra signora di Coromoto se qualcuno è arrivato adesso diciamo si trova a Roma è al centro di un luogo in cui si partecipa molto alla vita di chiesa sì è una parrocchia molto attiva molto viva c'è un parrocchiano lì che va alla messa ogni giorno quando torno da lì per celebrare con loro lui mi ringrazia e dice ogni volta che entro qua è come se fosse la prima volta perché sento la gioia ma questi colori non sono colori brasiliani sono colori vivi di tutte le manifestazioni religiose anche qua anche i romanici usavano questi colori fino al gotico si usavano questi colori dopo nei secoli i diversi stili hanno fatto immagini sempre ogni volta più cuppe più oscure più a Caravaggio e fino a a sparire il colore della tradizione vostra ma se il paradiso il cielo non è pieno di colori e allora che cosa andiamo a fare lì? che andiamo a fare sono assolutamente d'accordo dove si trova la chiesa ricordiamolo così si potesse via dei coli portuensi qui a Roma a due passi da qui Simone e continuiamo a dar voce a chi ci sta seguendo ai nostri telespettatori iniziando d'annunzio nei momenti difficili quando mi sento perso prego e guardo il crocifisso grazie a Gesù riesco ad andare avanti Maria ha ragione Don Donato l'altare è il luogo della gioia e della condivisione non è l'arrivo bensì l'inizio di un cammino e chiudiamo con Giuliana chi canta prega due volte per questo il mio posto è vicino al coro solo lì riesco a dar voce a ciò che porto dentro al canto del mio cuore allora padre Rubervalla sono bellissimi gli interventi dei nostri telespettatori delle telespettatrici il tabernacolo siamo arrivati al tabernacolo voglio sentire anche la nostra catechista a riguardo però ecco partiamo da come si realizza anche sì il tabernacolo sarebbe proprio la continuazione dell'altare fino fino al 1500 più o meno erano non c'era il tabernacolo come noi abbiamo sono gli ultimi 500 anni che noi abbiamo il tabernacolo com'è ma il tabernacolo in tutte le nostre parrocchie è la continuazione della messa quindi io entro per pregare durante la giornata il tabernacolo è la mia messa perché fa connessione con la messa celebrata prima durante la celebrazione eucaristica noi non guardiamo il tabernacolo guardiamo l'altare quando non c'è la celebrazione eucaristica lo sguardo il nostro sguardo va al tabernacolo il tabernacolo è la nostra messa silenziosa durante la messa è un momento di pregare con i fratelli con la comunità invece il tabernacolo è quel momento in cui io vivo la messa la mia messa la messa è quel momento in cui io posso parlare con Gesù forse esatto raccolto in preghiera prima la Melchionda ci raccontava il senso del tabernacolo e il rapporto con i suoi catechisti come glielo spiega però io adesso vorrei da lei un'altra riflessione perché se guardiamo al significato etimologico della parola chiesa significa riunione di uomini comunità e allora vorrei che lei a noi tutti ai telespettatori e perché no anche ai suoi ragazzi ricordasse perché è importante una chiesa per noi cristiani perché la chiesa è il luogo dell'appartenenza alla comunità quindi io quando vado nella mia parrocchia mi sento di entrare a casa la mia seconda casa io dico sempre la mia seconda casa perché è lì dove mi incontro con le persone con cui condivido la stessa fede gli stessi valori importanti e quindi la chiesa è il luogo dove noi oltre che incontrare il Signore incontriamo i nostri fratelli grazie a tutti i nostri ottimi che di questi tempi non è proprio grazie grazie anche a Don Donato Agostinelli auguri per il nuovo incarico grazie a Marta Manzo da Cerreto Pudi grazie a tutti Don Donato auguri per il nuovo incarico grazie noi ci ritroviamo domani a domani ascoltate sì mi sentite sì sì Don Donato vai un attimo volevo dare un ultimo saluto tanto se sono dell'ultimo primo un ringraziamento alla mia perpetua Anna che fa 80 anni il suo compleanno e secondo un invito a tutti un invito entrate nelle chiese vi chiedo tutti entrate entrate ma non come turisti entrateci come mendicanti di amore grazie grazie Don Donato grazie a tutti grazie a tutti noi torniamo come sono tutti domani alle 15 e 20 siamo noi a domani grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti